Buongiorno a tutti, benvenuti alle giornate del mare organizzate dalla rivista Limes che in questa seconda edizione finalmente arrivano a Trieste e sono molto felice di poter accogliere qui il nostro Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Capo della Marina, l'Ammiraglio Cavodragone e tutti voi che fra l'altro molti di voi hanno collaborato alla nostra impresa, al nostro tentativo di riportare il mare al centro della riflessione geopolitica del nostro Paese. Fra l'altro questa nostra iniziativa coincide del tutto casualmente con l'annunciatissimo disastro afgano e le riflessioni che ha scatenato nel mondo, a mio avviso non abbastanza in Italia, e fra l'altro fatti di queste ore la rottura tra Stati Uniti e Francia sulla questione dei sottomarini, ma di questo parleremo. Perché noi ci occupiamo di mare e soprattutto perché parliamo di medio oceano, il mare visto dalla terra? Fondamentalmente perché il mare è il luogo della grande sfida attuale tra Stati Uniti e Cina, dovrei far vedere le carte che però non partono, ma fondamentalmente l'idea è che sul mare si giocano oggi le partite decisive, sia di carattere economico, commerciale, ma soprattutto geostrategiche, e che la partita sia fondamentalmente tra chi oggi domina il mare, cioè gli Stati Uniti d'America, e chi invece cerca di accedere agli oceani, c'è la Cina. E in questa partita noi abbiamo disegnato un teatro che va da quello che abbiamo chiamato il medio oceano asiatico, cioè i mari cinesi, l'indo pacifico, verso il medio oceano nostro, il medio oceano occidentale, che è quello che va invece ad attraversare via Mar Rosso, lo spazio che poi porta verso l'oceano atlantico. In questa partita si gioca appunto il destino del rapporto di forze nel mondo. Vedete come l'impero americano, che abbiamo voluto qui rappresentare attraverso le aree di competenza delle flotte americane, abbia una dimensione globale centrata sugli Stati Uniti e retta dal controllo delle principali rotte commerciali, attraverso cui, voi sapete, passa l'ottanta per cento dei traffici. E questa rappresentazione globale con l'America al centro e i mari, che sono l'area di protezione degli Stati Uniti e di controllo degli equilibri globali, si riflette, lo vediamo nella carta successiva, nella visione geostrategica americana, che consiste, se possiamo far vedere la carta, nel considerare la necessità di impedire che nello spazio eurasiatico si formi una potenza alternativa. Di qui l'idea di quella sorta di cerchio eurasiatico, controllo quindi in particolare in questa fase dello spazio tra Mediterraneo-Asiatico e il nostro Medioceano e in questa fase il contenimento, dopo essere stato prima nei confronti dell'Unione Sovietica, magari in maniera non esplicita della Germania, si concentra sulla Cina. Bene, quindi io adesso approfitterei della sua presenza, Ministro, per porle appunto alcune questioni a partire da questo scenario. La prima, che lezione dobbiamo trarre dall'Afghanistan? 20 anni, risultati, ahimè, notevolmente negativi, noi abbiamo fatto le pulce alle americane, le abbiamo spiegato come funziona il mondo, ma noi siamo stati là, abbiamo perso 53-54 uomini, centinaia di feriti, abbiamo partecipato alla formazione, all'addestramento di forze afghane che poi sono diventate talebane, ma era abbastanza evidente che una volta che noi abbandonassimo l'Afghanistan, fra l'altro dando anche l'orario di uscita, questo era inevitabile. Ecco, questo mi fa un po' riflettere, le pongo la domanda, che lezione possiamo trarre dall'Afghanistan e più in generale da queste missioni contro il terrorismo? Beh, innanzitutto grazie, grazie dell'invito, sono molto contento di essere qui, penso che sia sempre molto utile avere occasione di riflessione, di confronto anche per far crescere nel Paese una consapevolezza dell'importanza di una discussione di questo tipo, perché come ci dicevamo prima, insomma, prima di entrare, l'attenzione dell'opinione pubblica italiana su questi temi è un'attenzione molto precaria, molto labile, ma anche l'attenzione del dibattito politico è qualche volta labile, oppure ci concentra su alcuni aspetti simbolici, specifici che poco hanno a che fare con la sostanza delle discussioni, la stessa difficoltà a declinare nel dibattito politico, il tema dell'interesse nazionale come tema che guida le nostre riflessioni è già sintomatica di una difficoltà, di un limite della discussione, che poi si riverbera anche nella postura del Paese, nelle decisioni che assumiamo, dei razionali delle decisioni che nel corso degli anni sono state assunte. Certamente dall'Afghanistan abbiamo più di una lezione da prendere, la dobbiamo prendere certamente nelle organizzazioni internazionali di riferimento, la dobbiamo prendere anche su scala nazionale, perché è evidente che ci sono aspetti che si muovono nella riflessione sullo scenario di appartenenza alle organizzazioni internazionali ed è bene che su questo vi sia una discussione molto seria, molto serrata all'interno delle organizzazioni internazionali di riferimento, che è iniziata, perlomeno in termini di enunciazione e di impegno, ma che si deve ancora sviluppare sia in seno alla Nato, sarà molto importante da questo punto di vista, sul piano dei Ministri della Difesa l'incontro, le quattro sessioni che ci vedranno impegnati nel mese di novembre, che avranno al centro l'Afghanistan e le sue consuenze anche in relazione al processo di revisione strategica del concetto strategico della Nato, cioè l'esercizio di Nato 2030. È chiaro che l'epilogo drammatico dell'esperienza afghana non potrà non avere un riverbero in quella riflessione e penso che la discussione da questo punto di vista sarà molto impegnativa, sul piano appunto già della modalità con cui si è arrivate alla decisione, anche del confronto che c'è stato insieme alla Nato rispetto a quella decisione, perché è chiaro che la discussione che si sviluppa anche negli ambiti con cui la Nato articola la propria riflessione interna, una discussione che non ha rilevanza esterna, per ragioni evidenti, però sull'annunciato rientro che vi fosse una decisione americana relativa alla conclusione della missione mi pare, come dire, elemento abbastanza inconfutabile, ma sulla modalità con cui rientro è stato deciso e soprattutto sulle condizioni che erano la base della decisione di pianificare il rientro ci sarebbe molto da discutere. Noi abbiamo portato dentro quella discussione una posizione, l'abbiamo portata nel meeting di febbraio, quando la nuova amministrazione americana in relazione ai contenuti degli accordi di Doha non aveva ancora esplicitato una propria posizione in merito alla tempistica, alle modalità con cui veniva deciso il rientro, noi abbiamo rappresentato in quella sede una nostra posizione, che era una posizione, come dire, più concentrata su una pianificazione del rientro basato su condizioni piuttosto che su tempistica, la decisione, questa posizione è stata una posizione minoritaria e sconfitta all'interno. Ma è interessante, Ministro, che gli americani hanno fatto un accordo con lo Stato, con lo Stato Islamico-Talebano, a nome anche della coalizione senza praticamente portarci? Sì, gli accordi di Doha sono accordi che hanno visto una condotta americana, chiaramente portata avanti dagli Stati Uniti direttamente e in via praticamente esclusiva. Sul piano diciamo della relazione con gli altri membri dell'Alleanza Atlantica più volte è stato dato un aggiornamento, però c'è stato, come dire, il cambio di paradigma è legato al cambio di postura rispetto alla pianificazione del rientro, da un rientro che era comunque un rientro condition based si è passati a un rientro time based e lì in quel cambio di paradigma, a mio parere c'è stato l'elemento di un rientro che ha mostrato tutti i suoi limiti in ciò che si è realizzato. Non pensa che ci sia, Ministro, qualcosa di più profondo, cioè noi abbiamo un'idea dell'Alleanza per cui tutti per uno, ciascuno per tutti. Poi andiamo a vedere concretamente, no? Accade l'attacco alle torri gemelle, articolo 5, gli americani dicono grazie facciamo da soli. Dopodiché, vabbè, gli ultimi esempi li lasciamo fare. Insomma, noi abbiamo l'idea della Nato come se l'America fosse qui per proteggere noi, mentre chiaramente la Nato serve a proteggere l'America. Quando parliamo di una Nato più bilanciata dobbiamo parlare di un bilanciamento che però, diciamo, abbraccia tutte le dimensioni, perché se abbraccia la dimensione della partecipazione più compiuta e consapevole ai processi decisionali, porta con sé che vi sia una partecipazione più compiuta e più consapevole alla responsabilità. E questo credo che sia, diciamo, il tema fondamentale con cui noi siamo chiamati a confrontarci. Ma questo è anche nella coscienza nostra, anche nella coscienza degli italiani. C'è un interessante sondaggio di due anni fa in cui si chiedono alle popolazioni europee, si chiede alla popolazione europea una valutazione rispetto all'Alleanza Atlantica e in quel sondaggio, come dire, l'opinione pubblica italiana risponde così, penso che sia un sondaggio attendibile, diciamo, risponde che l'Alleanza Atlantica è imprescindibile come ombrello di sicurezza per l'Europa e quindi anche per l'Italia e che la responsabilità però dell'intervento militare nell'Alleanza Atlantica è in capo agli Stati Uniti. Allora qua credo che ci sia un tema che riguarda, da un lato, un bilanciamento nei processi decisionali e nel contempo un bilanciamento dal punto di vista della capacità di assunzione della responsabilità. Tutta la discussione sulla difesa europea è, a mio parere, un pezzo di questo ragionamento. Se vuole essere declinata efficacemente e concretamente e non romanticamente come mi pare in parte si stia declinando in questo momento, poi non so se ne parleremo. Molto romanticamente. Non so se ne parleremo. Dopodiché c'è anche una lezione nazionale che dobbiamo apprendere rispetto all'esperienza afghana. Le missioni nascono e si concludono, ma dal momento in cui nascono, dal momento in cui si concludono, si adattano, si confrontano con obiettivi che si modificano nel corso dello svolgimento della missione. Vent'anni di esperienza in Afghanistan sono vent'anni in cui anche gli obiettivi della missione si sono modificati da un intervento prettamente, diciamo così, di contrasto al terrorismo globale con applicazione dell'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, con una risposta dell'Occidente all'attacco al cuore dell'Occidente, cioè l'attentato alle Torre Gemelle, si modifica nel corso del mandato. L'attività antiterrorismo continua, la lotta al terrorismo globale continua, gli obiettivi in quella direzione sono anche stati sostanzialmente raggiunti, Osama Bin Laden è stato eliminato, Al Qaeda è stata fortemente colpita ed indebolita, accanto a questo si è sviluppata un'attività di addestramento delle forze armate di sicurezza afghane, io qua esprimo la mia valutazione che però è corroborata dagli elementi che mi vengono dati dai miei stati maggiori e dall'esperienza realizzata sul campo. Le forze armate di sicurezza afghane sono state ben addestrate, gli afghani hanno combattuto, soprattutto negli ultimi anni della missione, hanno combattuto seriamente e hanno avuto anche molte perdite e quindi io quando sento che la valutazione rispetto alla nostra esperienza in Afghanistan è stata un fallimento dell'addestramento io dico che questo non è vero e non lo dico io come dire perché me lo sono inventato ma perché i dati ci dimostrano che non è così, le valutazioni della componente militare mi dicono che non è così. Ciò che è completamente fallito è stato il tema dell'institution building, non era neanche chiaro che questo fosse un obiettivo perché questo è uno dei punti della lezione afghana che secondo me noi dobbiamo trarre. Non c'è stata chiarezza e condivisione da parte di tutti gli attori dell'alleanza rispetto a questo percorso, questo processo. Non a caso Biden dice ma questo non è un tema che gli americani hanno mai posto come tema, come obiettivo della missione. E poi c'è il tema, diciamo così, degli interlocutori che ci cerchiamo. Perché è evidente che agire in un paese significa agire tenendo conto che gli interlocutori che si individuano in quel paese devono avere una riconoscibilità nel paese che tendono a rappresentare. Soprattutto il governo repubblicano Ghani che è stato poi caratterizzato dalla eterna diatriba tra Ghani e Abdullah che ha determinato, le divisioni che ha determinato, ci dice che quella parte è stata completamente fallita. Su questa partita, questa partita, cioè la partita della conclusione e dell'epilogo afgano, io credo, come dire, accelera una valutazione rispetto alla proiezione internazionale del nostro strumento militare che era già in corso. Qui e qui veniamo appunto... No, prego, prego Ministro. Vabbè, innanzitutto il problema della guerra al terrorismo è che essendo il terrorismo una modalità di guerra e non un nemico, improvvisamente scopri che il terrorista diventa il tuo alleato. Nel caso talebano abbiamo avuto... Quindi se vogliamo dire sotto questo profilo abbiamo addestrato l'esercito talebano di fatto perché è quello che adesso controlla il territorio, cerca di controllarlo perché poi finiranno probabilmente a spararsi fra loro, hanno già cominciato. Però venendo a noi, Ministro, c'è una cosa che mi colpisce e che riguarda ancora una volta il nostro sistema di alleanze che è stato costruito, lei sa molto meglio di me, con un nemico preciso che era l'Unione Sovietica, che sopravvive, forse sopravviverà ancora per secoli, come tutte le grandi organizzazioni, la Nato ha una sua inerzia, però non si capisce bene a che cosa serva, anche perché ogni volta che c'è da fare qualcosa di serio, gli americani scelgono chi gli serve e scelgono chi non gli serve. Nel caso italiano, però, questo a mio avviso, e qui le faccio una domanda specifica, pone un problema di impiego delle forze armate. Nel trentennio successivo alla guerra fredda, noi abbiamo fatto sostanzialmente due mezze guerre non dichiarate, una contro la Jugoslavia e l'altra contro la Libia, quella della Jugoslavia piuttosto intensa. A parte il fatto che forse a un certo punto bisognerà anche spiegare al Paese che quando uno fa la guerra lo deve dire, ma poi perché utilizziamo le forze armate per destabilizzare la nostra frontiera. Non dovrebbe essere il contrario? In che senso? Nel senso che noi abbiamo un interesse a dei Balcani stabili e a una Libia stabile, invece abbiamo destabilizzato i Balcani e destabilizzato la Libia, o quantomeno contribuito a farlo nel secondo caso, come vedremo, andando dietro alla Francia con esiti disastrosi. Io rispondo, diciamo, degli anni in cui sono ministro io, quando ero all'opposizione facevo fatica a intervenire. Io penso che oggi noi stiamo concentrando la proiezione dello strumento militare e l'impiego delle forze armate con alcuni principi che io ho cercato di declinare in Parlamento. Io penso che quando si discute in Parlamento delle nostre missioni internazionali, quindi della proiezione del nostro strumento militare, bisogna guardare molto alla discussione che si sviluppa e magari anche avere molta attenzione sui documenti che sono la base delle decisioni che si portano poi all'attenzione del Parlamento. So che da parte vostra c'è, non so se c'è sempre da parte dell'opinione pubblica. Noi abbiamo detto essenzialmente questo, che abbiamo dato alcuni principi con cui costruiamo la nostra proiezione internazionale dello strumento militare. Questi principi derivano dalla individuazione di un quadrante in cui secondo noi risiedono i nostri interessi nazionali in termini di sicurezza. Dentro quello scenario e quel quadrante si gioca anche il nostro contributo alle organizzazioni internazionali di cui facciamo riferimento e di cui facciamo parte e stiamo modulando l'intervento dello strumento militare in quelle direzioni. Con una premessa, lo strumento militare si chiama appositamente strumento, cioè è uno strumento, un assetto in funzione di una politica estera e di sicurezza che il Paese intende sviluppare. Non possiamo assegnare lo strumento militare di essere nel contempo strumento e diciamo così il costruttore della politica estera. Ci deve essere una decisione politica, ci deve essere una visione politica che colloca i nostri interessi e lo strumento militare è una delle dimensioni con cui questa politica si realizza ed è a servizio di questa politica. Premessa scolastica ma credo che sia... fare il contrario, no? Prima i mezzi e poi inventiamo qualcosa che li giustifichi. Io ho cercato di impostare la discussione invece in Parlamento in maniera differente, adesso non è un giudizio diciamo, di impostarla così, ecco non dico in maniera differente, di impostarla così. I nostri interessi nazionali secondo me sono inquadrati in un quadrante di sicurezza, il quadrante di sicurezza al centro del Mediterraneo e dal centro del Mediterraneo si abbraccia un'area più larga, noi la chiamiamo il Mediterraneo allargato, voi la chiamate più il Mediaceno ma non è... ma ci intendiamo, la sostanza è quella e la sostanza vede il Mediterraneo al centro, i Balcani occidentali su cui io credo che dobbiamo... possiamo parlarne anche oggi ma dobbiamo, io penso, mettere in campo un investimento molto più forte, noi siamo nei Balcani, siamo in KFOR, lo guidiamo con la missione, lo guidiamo da tanto tempo, adesso cediamo per un anno il comando degli ungheresi in una rotazione, lo riprendiamo tra un anno, abbiamo un ruolo riconosciuto in quella regione, lo abbiamo anche in termini di cooperazione militare e industriale, i primi G2G che noi stiamo realizzando, li realizziamo in quella regione, cioè nel Balcani occidentali e poi abbiamo la proiezione sull'Africa che è a partire, che nel disegno che io ho rappresentato al Parlamento è un triangolo che ha al vertice superiore la Libia, ECA è perfetto, eccolo lì, quello è il triangolo che noi abbiamo individuato e in quel triangolo noi concentriamo l'azione anche in termini di proiezione dello strumento militare italiano. Accanto a quello c'è la parte che riguarda il nostro impegno, uno in Libano che è un impegno storicamente importante per l'Italia, deteniamo il comando di Unifil, abbiamo una presenza di 1100 soldati in Unifil, l'abbiamo guidato per tanti anni, accanto ad Unifil noi oggi abbiamo offerto un assetto anche navale alla componente marittima di Unifil che risponde anche a un interesse nazionale, cioè dentro il dispositivo internazionale della Maritain Task Force di Unifil la previsione di un assetto navale italiano ci consente una presenza stabile nel Mediterraneo orientale, che per noi è importante, è rilevante per le questioni che conoscete, il tema degli interessi energetici in quella regione, eccetera, eccetera. E poi in Iraq, l'Iraq, io voglio ricordare che è stato nel 2019 il primo fornitore di petrolio all'Italia e nel 2020 il secondo. Dire che l'Iraq è un tema che non ci interessa io credo che sia un'acrobazia... Tanto più che andiamo a comandare la missione Nato. Tanto più che andiamo a comandare la missione Nato in un quadro in cui la missione Nato, diciamo, assume assetti e forze anche della coalizione, diciamo così, dei volonterosi. C'è un aspetto abbastanza curioso, adesso magari gli amici della Marina non saranno d'accordo, ma noi adesso dovremo partecipare a una missione a guida francese nel Golfo Persico, avendo i soldati italiani schierati in Iran, cioè in Libano, Esbolla, e in Iraq, cioè in Iran. Quindi insomma andiamo un po' a sfruculiare i pesiani con le navi mentre... Sì, partecipiamo ad Emaso, però è una delle presenze che ha l'obiettivo di mantenere la sicurezza dei traffici marittimi in quella porzione di mare molto importante, è però l'operazione che ha una postura molto più dialogica rispetto alla missione che è sempre presente lì, anglo-americana. La percezione iraniana non è questo, ma il problema probabilmente è più ampio. Però, Ministro, restiamo qui... Però non dobbiamo commettere l'errore sempre di non fare scelte perché ci sono sempre percezioni. No, no, rispetto a noi... Ogni decisione porta una percezione perché altrimenti noi sulla percezione di tutti gli attori internazionali spesso non abbiamo... No, mi riferivo al fatto che noi abbiamo dei soldati schierati in territorio di fatto iraniano e noi gli mandiamo le navi contro, quindi insomma... Sì, però il personale schierato nel Libano meridionale è un personale che fa parte di una missione che ha sempre avuto una postura molto anche di cerniera politica e dialogica tra Israele ed Hezbollah e credo che la peculiarità italiana da questo punto di vista sia una peculiarità molto apprezzata e molto importante. Ministro, restiamo un attimo appunto in quel famoso triangolo, se qualcuno può rimettere la cartina. Lì è successo negli ultimi tempi qualcosa di abbastanza grave per noi. Vabbè, lasciamo stare l'intervento del 2011 non richiesto, diciamo così. La Francia ha iniziato una guerra, l'ha perduta, ha fatto entrare i turchi e i russi e adesso noi abbiamo una frontiera meridionale con due paesi piuttosto peculiari, uno apparentemente diciamo alleato ma di fatto problematico come la Turchia e l'altro non apparentemente alleato, anzi dichiarato più o meno nemico dal nostro principale, cioè la Russia. La nostra frontiera meridionale è una frontiera decisiva dal punto di vista marittimo, ma per tutto il paese, ha cambiato assetto nel giro di pochi mesi, prima era una frontiera con il caos, prima era con Gheddafi, poi con il caos e adesso con la Turchia e con la Russia. Noi fra l'altro collaboriamo, dovremmo collaborare con i francesi in quell'area, abbiamo una missione molto importante, molto delicata e molto pericolosa, aggiungerei, nell'area delle tre frontiere, insomma Mali, Burkina Faso, Niger e quindi come ce la mettiamo con i francesi che prima ci fanno un guasto e poi chiedono il nostro aiuto? Io credo che non possiamo, quando parliamo diciamo così, di rafforzare anche la dimensione europea degli interventi, quindi la responsabilità, poi su questo tema secondo me dovremmo tornare, non possiamo pensare di essere cooperativi in una regione e competitivi in un'altra, è evidente che ci deve essere la capacità di condurre ad un aspetto cooperativo, ad un atteggiamento cooperativo, gli interventi che immaginiamo di realizzare in aree di interesse nazionale dei paesi coinvolti ma anche di interesse diciamo così collettivo in termini di sicurezza perché quella che vediamo lì sotto è, io la vedo così, è la frontiera meridionale dell'Europa e una situazione di instabilità, di insicurezza, di minaccia alla frontiera sud dell'Europa è un tema che ci riguarda, riguarda noi, riguarda tutta l'Europa. Ciò che è avvenuto in Libia adesso, come dire, non entro in quella discussione, ripeto avevo altre responsabilità. Io faccio solo una domanda specifica, permette Ministro, noi avevamo insediato un governo quello di Al-Serraj, il governo Fasullo chiaramente, insomma avevamo insediato questo governo e ce l'hanno portato fisicamente nel suo ufficetto di Tripoli. Quando Al-Serraj vede che sta arrivando la truppa di Haftar mandata da russi, francesi, egiziani e quanti altri alle porte di Tripoli telefona a sette paesi chiedendo aiuto. Di questi sette paesi cinque rispondono di no, uno risponde di sì ovviamente la Turchia e uno non risponde. Ma com'è possibile che il nostro paese faccia prima un investimento politico, poi quando quel signore chiede di essere in qualche modo sostenuto e questo va fra l'altro anche nei nostri interessi, noi nemmeno rispondiamo. Bisognerebbe chiedere chi c'era l'altra parte del capo del telefono diciamo allora, non c'ero io. No, io credo che come dire la Libia sia l'esempio di cosa significhi non assumersi fino in fondo una responsabilità e non compiere fino in fondo una scelta. Chiaramente diciamo la nostra postura, la nostra cultura è una cultura che privilegia la soluzione politica di questioni di questo tipo, ma è evidente che diciamo in Libia si iniziò una guerra che aveva dei sostenitori. Haftar non agisce nel deserto della desolazione della sua azione, ma con un'attenzione di alcuni membri della comunità internazionale. Qualcuno perché ritiene che Haftar possa rappresentare al meglio un investimento per i propri interessi. Qualcun altro perché ritiene che, come dire, l'importante è che vi sia una soluzione, qualunque sia e questo porta a ciò che è avvenuto. Una cosa che, come dire, sembrava un'offensiva, un'azione che si potesse risolvere in pochi giorni con un ingresso trionfale a Tripoli, in realtà poi si impantana nel deserto libico e lungo, diciamo, quella frontiera che passa dalla giufla, eccetera. In quel contesto è chiaro che io penso che l'Italia dovrebbe riflettere anche qua a prendere una lezione. Ed è quello che dicevo prima, appunto, che le scelte si fanno fino in fondo. Dopodiché oggi noi siamo, come dire, un interlocutore importante della Libia, dentro un processo che anche di natura politica, che mi auguro la Libia compia fino in fondo l'appuntamento con le elezioni, con tutta l'incertezza che questo percorso porta con sé. Noi parliamo con il governo, chiaramente discutiamo e parliamo col governo libico, io mi arricchierò a breve in Libia anche per, come dire, rafforzare gli elementi della cooperazione militare. C'è un dialogo con la Turchia, io sono un, come dire, da questo punto di vista, sono un assertore della necessità del dialogo con la Turchia. Immaginare di fare una politica mediterranea e non interloquendo con la Turchia, che ricordo sempre, è un alleato della Nato, cioè è un membro della Nato, credo, è un nostro alleato all'interno della Nato, in quel senso voglio dire, che è un membro della Nato, credo sia un elemento ineludibile, così come ineludibile discutere anche con altri attori nel contesto mediterraneo, perché pensare di fare una politica mediterranea ignorando alcuni attori io credo che sia sicuro al rischio di uno sguardo molto miope e che non ci consente poi di fare la politica che necessita. Ma non pensa Ministro che noi dovremmo anche chiarire con chi stiamo e contro chi stiamo, perché sì, sono tutti membri della Nato, ma lì Francia e Turchia si sono fatti la guerra e se la continuano a fare e fra poco si sparavano fra due navi loro. Noi siamo con i turchi o con i francesi? Noi siamo con la Libia, essenzialmente. Il nostro interesse è essere con la Libia. Oggi io penso che noi dobbiamo rafforzare, dobbiamo sostenere gli sforzi che si stanno facendo anche da parte della comunità internazionale per stabilizzare il processo politico libico. Credo che chi ha immaginato un'iniziativa alcuni anni fa di un certo tipo sia stato, diciamo così, smentito dall'esito di quella iniziativa e credo che questo sia un elemento, diciamo così, che deve essere tenuto in considerazione negli sviluppi dell'attività che in Libia si realizza. Noi con la Libia stiamo parlando chiaramente con tutti gli interlocutori, c'è il processo della conferenza di Berlino, discutiamo e discutiamo seriamente con la Turchia e ci confrontiamo seriamente con la Turchia. Sul fatto che noi discutiamo, Ministro, non ho alcun dubbio. Il problema è se riusciamo a fare capire a chi discute con noi da che parte siamo, perché siccome loro una parte ce l'hanno e noi in genere no, questo è un po' a mio avviso il problema che abbiamo. Ma tornando... No, lei non è d'accordo. No, sulla chiarezza sono molto d'accordo. Sulla complessità dei processi, credo che chi ha responsabilità politica la complessità dei processi debba tenerla in considerazione, anche perché l'elemento della chiarezza nelle relazioni internazionali a mio parere si deve sempre accompagnare anche con l'elemento della prudenza e quindi, come dire, si costruiscono le cose e poi nella costruzione le si comunica anche. Quanto più una situazione è complessa, tanto più bisogna essere chiari, questo è evidente. Ma un'altra considerazione che riguarda sempre l'area del triangolo. I francesi stanno sbaraccando gran parte delle loro forze da una guerra che loro chiamano africani, stanno tanto per capirci, e noi centriamo insieme ad altri paesi. Ho visto la lista dei paesi che vogliono collaborare con la Francia nel mali, è impressionante, cioè c'è una pletora di paesi, anche paesi neutrali per esempio, che dicono siamo a vostra disposizione. Allora io mi domando, ma queste missioni militari, oggi come oggi, non vengono interpretate più che sotto l'aspetto strategico quasi come una forma di addestramento delle forze armate, di legittimazione dello strumento militare, di investimenti, soldi per le forze armate, però senza un'idea concreta, cioè il problema che lei poneva. Sì, io penso che il Sahel sia, ripeto ciò che ho detto prima, che il Sahel sia la frontiera meridionale dell'Unione Europea, dell'Europa, e che in Sahel vi debba essere, se c'è uno spazio in cui il livello dell'ambizione dell'Europa si misura dal punto di vista anche della capacità dell'intervento militare, quello è il Sahel, perché se non è quello lo spazio io faccio fatica a immaginare quello sia lo spazio di un intervento europeo, ok? E nella riflessione che ho fatto, che ho portato, nel modesto contributo alla discussione che sto cercando di portare in sede europea per la parte che mi compete, cioè quella di Ministro della Difesa, sia con l'altro rappresentante che con i Paesi, diciamo, con i Paesi membri dell'Unione, con gli Stati membri, è quello di immaginare una, come dire, politica coordinata dell'Unione Europea nel Sahel, che io credo sia appunto lo spazio in cui quel livello di ambizione si può misurare. Significa mettere a sistema ciò che c'è? Noi in Sahel abbiamo missioni e operazioni onusiane, missioni e operazioni di training, di addestramento europeo, missioni bilaterali, missioni di coalizioni di Paesi, missioni nazionali, ci sono una serie di missioni e di operazioni che io credo debbano essere messe a sistema dentro una cornice e un'architettura europea. Noi siamo presenti soprattutto in Niger, siamo presenti in maniera importante e che crescerà di importanza. Io sono per rafforzare molto la dimensione bilaterale dei nostri interventi, che è una cosa che io penso forse nel passato non abbiamo fatto a sufficienza. Ci è sembrato sempre più utile intervenire dentro, diciamo così, architetture più ampie che giustificassero il nostro intervento. Io penso che invece noi dobbiamo rafforzare le dimensioni bilaterali. Nel rafforzamento della dimensione bilaterale c'è anche una fidelizzazione del rapporto tra i Paesi e l'intervento che noi stiamo facendo in Niger da questo punto di vista è importante. Dove lo stiamo sviluppando? Lo stiamo sviluppando a Niamèi nella realizzazione dell'app logistico, che sarà un app logistico a servizio degli interventi militari nostri, della proiezione militare nostra, in tutta quell'area. È importante e stiamo affrontando questo tema che vi possa essere, a partire da questo, anche la nostra presenza nel nord del Niger, soprattutto ad Agadez, dove io penso... dove passano le rotte ai migratori. Perfetto. E questo è stato anche, diciamo, oggetto del... E dove i francesi ci dovevano tenere un po' lontani. Ci sono anche gli americani però da Agadez. Quindi stiamo lavorando... Per fortuna. Stiamo lavorando in questa direzione. Significa, per noi è importante, perché ci sono le rotte, diciamo così, del traffico di essere umani che dobbiamo contrastare. Immaginare di rafforzare la dimensione bilaterale militare e però nel contempo, come dire, chiamare l'Unione Europea, se vuole avere un'ambizione da questo punto di vista, un'ambizione come soggetto che contribuisce alla costruzione delle condizioni di sicurezza internazionale. Lavorare lì ad un innalzamento del proprio livello di ambizione, io credo sia importante, dalla posizione che stiamo cercando di portare. Mi pare molto importante, Ministro, quello che lei ha appena detto, cioè sul fatto che noi dobbiamo cominciare a pensare con la nostra testa e anche in dimensioni ristrette, bilaterali, anche perché noi siamo in qualche modo vittime della retorica sull'Europa, per cui immaginiamo che esista un soggetto geopolitico europeo che non esiste, per cui parliamo di difesa europea e altri chiacchiere, mentre gli altri fanno le operazioni concrete. Sono d'accordo con lei, scusi se lo interrompo, ma colgo l'occasione ancora per ribadire il mio contributo al dibattito, modestissimo contributo al dibattito. Io credo che la lezione afghana, lo scenario che cambia, lo sguardo all'Indo-Pacifico sempre più marcato da parte degli americani, rafforzi la necessità di una riflessione seria ed ambiziosa dal punto di vista europeo. Questo certamente sì. Io stavo dicendo il contrario. No, no, le dico, però le dico cosa significa dal mio punto di vista, le dico cosa significa dal mio punto di vista. Significa, come dire, il Niger per i francesi è Francia, è impero che c'è adesso sul battle group, eccetera, eccetera. Guardate, le nostre forze armate, diciamo, la costruzione di strumenti di prontezza, già esistono, esistono sia in ambito NATO che in ambito Unione Europea. Perché i battle group hanno questa... passare da 2.500 componenti del battle group. Non è un elemento, diciamo così, né complicato né legivo. Il tema è molto più politico. Il tema significa, quando parliamo di difesa europea, di cosa parliamo? Io penso che parliamo di analisi condivisa della minaccia, analisi condivisa della minaccia, parliamo... Ma lei pensa concretamente che un polacco e un italiano possono avere la stessa idea della Russia? Perfetto, ma infatti sto arrivando a questo. Parliamo di analisi condivisa dalla minaccia, parliamo di costruzione di basi tecnologiche industriali, parliamo di costruzione di capacità militari, parliamo di volontà di impiegarle dentro un'agenda politica chiara. Sono 5 punti che determinano, io la dico così, ma non per frustrare il dibattito, ma per richiamarlo, diciamo così, ad un'impostazione davvero realistica, determinano un salto politico che è un salto fondamentale. Lei diceva, tra un polacco e un italiano, l'analisi della minaccia, o come dire, le priorità della minaccia, non sono facilmente, diciamo così, immediatamente associabili. No, sono immediatamente dissociabili. Ah beh, adesso io mi faccia fare il politico, essere un po' più rotondo, perché se no non vale. Giustamente, lei fa lo studioso e può essere più, come dire, da questo punto di vista, più reattivo o più efficace. Io mi consente di essere abbastanza rotondo, insomma, per cercare di consentire di fare, di avere prudenza da questo punto di vista. Penso che, però, nelle modalità con cui le condizioni politiche lo consentiranno, io penso che un salto di qualità, da questo punto di vista, l'Europa si è chiamata a farlo. Noi stiamo facendo la strategic compass, la bussola strategica. O lì teniamo alto il livello di ambizione e se c'è da scontrarsi ci si scontra, dal punto di vista del confronto politico, o se per tenere tutti d'accordo, il livello di ambizione lo passiamo, facciamo un esercizio che ci ha impegnato tanto, ma che è assolutamente inutile. Ministro, in conclusione, la mia sensazione è che siamo entrati in una fase estremamente critica, nel senso che siamo entrati a livello globale, intendo in particolare a causa dello scontro tra Stati Uniti e Cina, in una logica di guerra. La cronaca ci dice che tra Francia Stati Uniti è scoppiata una crisi senza precedenti, il ritiro dell'ambasciatore francese, rinvio della celebrazione della battaglia di Cesapic con cui i francesi diedero praticamente all'indipendenza agli Stati Uniti contro l'Inghilterra, tanto per dire, al di là di quelle che sono ovviamente le battaglie diplomatiche, poi ci sono anche le elezioni, tutto quello che lei vuole, però questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che le alleanze, così come noi ce le siamo immaginate, cominciano a diventare dei contenitori abbastanza vuoti e che soprattutto le maggiori potenze, in particolare gli Stati Uniti, lo dice Biden, non lo dico io, è finita l'era delle guerrette e adesso dobbiamo prepararci alle grandi sfide, detto in termini militari dobbiamo prepararci a delle guerre ad alta intensità. Allora io mi domando, tutti stanno lavorando, stanno riarmando in questo senso, l'Australia adesso naturalmente su ordine americano si compra questi famosi sottomarini nucleari provocando una crisi con la Francia, grande sorpresa come se la collaborazione tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, quella sperimentata in due guerre mondiali e tutta la guerra fredda, dovesse in qualche modo cedere il passo a chissà quale altre considerazioni di tipo nato che lì nell'area non ha nulla a dire. Riportato a noi, questo è il famoso signore britannico, un diplomatico, si chiama Sir I. Crowe, che con un memorandum all'inizio del secolo scorso spiegò al suo governo che la guerra tra Germania e Regno Unito era inevitabile perché la Germania stava costruendo la flotta. Ho l'impressione che qualcosa del genere stia percolando in Cina e negli Stati Uniti, cioè ciascuno vede nel riarmo dell'altro la necessità di riarmare e si entra appunto non in una guerra ma in una logica di guerra. Noi come siamo messi? Si dice per esempio che noi manderemo una fregata nell'Indo-Pacifico, affare che? No, ne dico che non è vero, smentisco. Io sono stato molto, come dire, anche nell'azione del Parlamento e in ciò che il Parlamento ha approvato, ho concentrato i nostri assetti nelle aree di nostro interesse. Noi stiamo alzando la nostra presenza nel Mediterraneo dal punto di vista degli assetti navali, dovremo dare molta attenzione secondo me all'Adriatico, soprattutto nella relazione appunto con i Balcani che richiamavo prima. Se la nostra offerta di assetto alla Maritain Task Force di Unifil sarà confermata avremo una presenza stabile nel Mediterraneo orientale, se non dovesse essere confermata dovremo trovare un modo per dare una presenza stabile nel Mediterraneo orientale. La concentrazione dell'impiego della nostra forza marittima e dei nostri assetti navali è il Mediterraneo, il Golfo di Guinea e l'Oceano Indiano con le operazioni di antipirateria che sono importanti perché non è che non hanno a che fare con i nostri interessi, vedo che il rappresentante degli armatori, diciamo così, fa ampi cenni di assenso perché lì noi proteggiamo i nostri interessi nazionali che sono gli interessi della nostra armatoria a poter navigare e tracciare le rotte commerciali in sicurezza. Noi non abbiamo l'Indo-Pacifico, non è questione che ha a che fare con gli interessi strategici dell'Italia, certo guardiamo con attenzione. Quindi si sta dicendo che non faremo mai più missioni solo per mostrare bandiera, tipo come ha fatto il Bayern adesso? Può essere importante dal punto di vista industriale per l'Italia se lo ritiene in alcuni determinati momenti fare missioni di presenza, di mostrare bandiera per uno, due, tre mesi ma con l'obiettivo di mostrare a quei paesi l'offerta industriale italiana. Tipo l'Egitto, non so. Tipo i paesi, no tipo i paesi, è stata fatta nel passato credo sei, cinque, sei anni fa una nostra, la presenza di una nostra missione diciamo così di presenza in tutto, nell'Oceano Indiano, nel mare cinese eccetera di una nostra nave qualche anno fa ma era, rispondeva ad una logica commerciale che non è una cosa negativa eh? Perché guardate che rafforzare la nostra base industriale significa rafforzare un pezzo della nostra sovranità eh? E non è che questa cosa la dobbiamo guardare così con un po' di alzando il sopracciglio. Rafforzare la base industriale del paese nel campo della difesa significa rafforzare un pezzo della nostra sovranità e partecipare ad un pezzo del vantaggio tecnologico dell'Occidente. Io credo che, io ho voluto un, ho voluto una legge di bilancio ambiziosa da questo punto di vista. Anche qua, cogliendo e concludo subito perché sto rubando molto tempo, chiedo scusa a lei direttore, adesso c'è qua l'ammiraglio Cavodragone diciamo così, anche un po' forzando rispetto ad una ad una abitudine che ormai si era radicata nella difesa italiana, cioè quella di non rendere trasparenti, chiari ed evidenti al Parlamento e all'opinione pubblica gli investimenti nel campo della difesa. Io sono perché se si deve fare una discussione la si faccia, non ci si nasconda. L'ammodernamento dello strumento militare, uno, è un dovere del Ministro della difesa, che se non facesse, se non, come dire, lavorasse a questo obiettivo, come dire, non farebbe il proprio dovere. Ma due, per far capire, far capire, comprendere, confrontarsi con l'opinione pubblica che l'investimento nella difesa significa investimento della base industriale italiana. Io, noi abbiamo fatto un strumento di programmazione pluriennale finanziaria per l'investimento nella difesa per la prima volta. L'abbiamo reso esplicito, Miraglio mi smentisca se non è così, l'abbiamo reso esplicito, abbiamo istituito il Fondo Pluriennale per l'investimento della difesa, che è in legge di bilancio italiana, è stato finanziato, 12 miliardi e 7 lo scorso anno, stiamo lavorando sul finanziamento di quest'anno, garantisce, uno, certezza delle risorse, perché non si può essere protagonisti dei grandi programmi internazionali di investimento nel campo della difesa se non si ha certezza delle risorse, perché a un certo punto le risorse vanno messe sul tavolo, perché quando si mettono le risorse sul tavolo si discute del world share, altrimenti noi facciamo la parte meno nobile dei grandi programmi di cooperazione internazionale e perdiamo appunto competitività e vantaggio tecnologico. Grazie Ministro, il tema fra l'altro dell'Indo-Pacifico sarà anche il tema centrale della prossima tavola rotonda che sarà introdotta e moderata da Dario Fabri, quindi ci torneremo. Io volevo ringraziarla intanto per, non solo per essere stato qui, ma per averci dato un'idea abbastanza precisa di come lei intende impostare, anche in conseguenza di quello che abbiamo imparato con le elezioni afghane, per quanto riguarda l'impiego dello strumento militare e in particolare per l'importanza della Marina e del controllo dei mari di prossimità mediterraneo, mediooceano, chiamiamolo come vogliamo. Quindi sono sicuro che anche sotto questo profilo le indicazioni che lei ha dato saranno materia di discussione e possibilmente di implementazione rapida. Grazie a lei direttore, grazie all'IMES per l'organizzazione di queste giornate, per il lavoro che fa. Io credo, e chiudo, credo che sia molto importante che vi sia la possibilità di un confronto vero. La mia intenzione è di, come dire, con un'agenda complicata per tutti noi, però sulla lezione afghana di organizzare anche un momento di riflessione in ambito difesa che coinvolga i maggiori prescidi di riflessione su questa materia. Quindi chiederò la vostra partecipazione perché credo che dobbiamo fare una discussione vera, molto vera, molto impegnata e che ci consenta dentro una declinazione di una strategia che il Paese cerca di costruire dal punto di vista della protezione del proprio strumento militare, però di riflettere, di confrontarsi perché credo sia molto importante. Grazie ancora, buone giornate.